Abbiamo chiesto di fare un appello ai medici tramite i loro sindacati perché con un atto di solidarietà i medici che operano nell'ambito della provincia di Pistoia si rendano disponibili a turno a venire a fare gli ambulatori a Sambuca. E l'invito rinnovato dal sindaco del comune di Sambuca Pistoiese, Fabio Micheletti, una soluzione tampone in attesa del bando dell'Asla per un nuovo dottore, bando che l'amministrazione ha chiesto preveda il vincolo di destinazione ambulatoriale. Poi abbiamo chiesto anche di fare una convenzione con l'Emilia Romagna per mettere in condizione i nostri compaesani di poter scegliere il medico anche nell'ambito di quelli che operano in Alto Reno Terme. Purtroppo anche lì la situazione non è ottimale, però ci è stato detto che per il prossimo anno ci sarà la disponibilità di assumere un medico per così dire in comproprietà, 50% a Sambuca, 50% in Alto Reno Terme. Dopo lo spostamento a Pistoia del medico che ha prestato il proprio servizio in questa zona negli ultimi 20 anni, parte dei pazienti hanno potuto conservarlo come dottore, ma recandosi in ambulatorio nel capoluogo, gli ambulatori dell'alimento occidentale, che copre gli abitati di Taviano, Pavane e Punta la Venturina, come quelli dell'orientale, la zona di Treppio, sono rimasti scoperti dalla presenza di un medico. Obiettivamente questo grande problema penalizza soprattutto la popolazione più fragile, le persone anziane, le persone che quindi fanno fatica a spostarsi o addirittura non sono nelle condizioni di farlo. Quindi è molto importante che venga bandito il posto di medicina generale subito, in via temporanea, e ribadisco e colgo l'occasione che mi avete offerto per chiedere ai medici che operano sul territorio della nostra provincia un atto di solidarietà e quindi la disponibilità a turno a coprire questi ambulatori nel nostro territorio.